Furgone, tampone, uno scuolabus fermo sulla strada, una bambina trasportata nelle ambulanze al Salesi di Ancona. Green Pass obbligatorio da venerdì per andare al lavoro, la CNA di Pesero Urbino lancia l'allarme per le piccole e medie imprese, senza personale sarà a rischio la produzione. E a rischio anche le corse degli autobus, i nadriabus sono una quarantina, gli autisti che non potranno andare a lavorare senza il lascia passare. Lo disse in Messico di un fisioterapista di Fossombroni e della sua compagna le prese con tamponi falso positivi che gli hanno complicato la vita. Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale, Occhio alla Notizia, allora apriamo subito con questa notizia di cronaca, un grave incidente che è avvenuto intorno alle 14 in Via Franchetta tra Piaggia e San Costanzo nel comune di Terre Roveresche. Secondo i primi rilievi un furgone condotto da un uomo del posto avrebbe tamponato un autobus scolastico con a bordo alcuni bambini delle scuole medie. Lo scuolabus era fermo per consentire ai bambini di scendere quando il furgone lo ha colpito. Molta è stata la paura dei bambini, dei passeggeri, tanto che tre di loro sono stati portati al pronto soccorso di Fano per accertamenti. È stata allertata anche l'eliambulanza che ha trasportato al Salesi di Ancona una bambina che mentre scendeva dall'autobus è caduta a causa dell'impatto del tamponamento. Non è in pericolo di vita, per fortuna. La dinamica è ancora al baglio dei carabinieri. Sul posto anche la polizia locale, e si è recato anche il sindaco di Terra Roveresca, Antonio Sebastianelli, per accertarsi, assicurarsi insomma dell'accaduto. Cambiamo subito argomento. Il certificato verde da venerdì 15 sarà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione con Moreno Bordoni, che è il segretario della CNA di Pesaro e Urbino. È la settimana del debutto del Green Pass come strumento indispensabile per accedere nei luoghi di lavoro. Si stimano circa 23 milioni di italiani coinvolti, tra lavoratori autonomi e dipendenti di aziende pubbliche e private. Dal 15 ottobre tutti dovranno avere ed esibire su richiesta il passaporto verde che attesta la vaccinazione anticovid, l'avvenuta guarigione dall'infezione o la negatività a un tampone. Chi ne è sprovvisto sarà considerato assente e ingiustificato e non riceverà più lo stipendio fino all'acquisizione del lasciapassare e comunque non oltre il 31 dicembre, data in cui termina lo stato di emergenza sanitaria, salvo ulteriori proroghe. La situazione è di preoccupazione, nel senso che purtroppo per le micro, piccole e medie imprese, ancora una volta, tutti gli oneri dei controlli sono ricadute sugli imprenditori e quindi anche per aziende che hanno pochi dipendenti, comunque il fatto che c'è rischio che qualcuno possa non presentarsi al lavoro diventa in questo momento, che è un momento strategico di ripresa in cui dobbiamo fare la differenza rispetto a quasi due anni in cui l'economia purtroppo ha avuto un grande stop, non era ovviamente il momento più opportuno. Infatti, come precisa il segretario della CNA di Peserurbino Moreno Bordoni, nella nostra provincia tante imprese hanno dai 4 ai 6 dipendenti, per cui se qualcuno non si dovesse presentare perché senza Green Pass sarebbe uno stop importante per l'azienda che si vedrebbe dimezzare la capacità produttiva da un momento all'altro. Da tempo che questa cosa si sapeva, l'associazione ha informato tutti i propri iscritti da tempo sulle modalità, abbiamo anche fornito un modello organizzativo da tenere. I controlli possono essere fatti a campione e quindi non esistono grandi problemi, c'è la famosa applicazione, l'unica riconosciuta scaricata dal personale che viene incaricato per il controllo e all'entrata in azienda viene fatta la verifica tramite questa app del cellulare. Chi viene controllato e non ha il Green Pass non può entrare in azienda. E le sanzioni sono salate persino più alte per i lavoratori che per gli imprenditori. Il datore che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass rischia una sanzione da 400 a 1000 euro. Il lavoratore che accede senza la carta verde è invece sanzionato con una multa che va da 600 a 1500 euro. Ad applicarle sarà il prefetto. L'imprenditore ovviamente non può allontanare fisicamente un dipendente che ovviamente vuole entrare ugualmente anche senza Green Pass, in questo caso l'imprenditore o chi è delegato dall'imprenditore a questa funzione deve avvertire le forze dell'ordine. È stato fatto abbastanza secondo lei, che cosa si auspica per il futuro? Il vero e unico grande obiettivo dell'associazione è quello di evitare un ulteriore lockdown, un'ulteriore chiusura per le nostre imprese. Sono fermamente convinto che quello che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo per gli imprenditori è insufficiente, intempestivo e sono altrettanto sicuro che se ci sarà in futuro un'ulteriore chiusura per i nostri imprenditori il rischio di perderne una percentuale importante è altissimo e quindi noi dobbiamo spongiurare assolutamente che questo avvenga. Il Green Pass richiesto sul luogo di lavoro potrebbe creare disagi anche al settore dei trasporti pubblici. In Adribus si stima che circa 30 autisti potrebbero assentarsi creando così disagi alle corse. per far fronte alla situazione oggi era previsto l'incontro con il prefetto Tommaso Ricciardi. A partire da venerdì sarà necessario esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro, una disposizione che potrebbe creare problemi in molti settori lavorativi, tra cui quello dei trasporti pubblici. Secondo una stima fatta a livello nazionale, le assenze a causa della messa in atto di questa misura tra Novax e conducenti non disposti a fare continuamente tamponi si potrebbero aggirare intorno al 10-15%. Nel caso di Adribus, che conta circa 250 autisti, si pensa che i conducenti contrari al vaccino possano essere una trentina. Un dato che fa temere disagi di interruzione di servizio del trasporto pubblico, soprattutto nel caso in cui, per via dell'assenza dell'autista, a saltare siano le corse più frequentate, come quelle del mattino, utilizzate da studenti e lavoratori. Per questo motivo, in mattinata, il prefetto Tommaso Ricciardi ha convocato il tavolo provinciale di coordinamento del trasporto pubblico. I disservizi su qualche linea potrebbero essere inevitabili, ma nel caso di assenza di autisti, si punterebbe a sacrificare le corse meno utilizzate per favorire quelle solitamente più affollate. In prefettura, oggi, Adribus si è presentata con l'intento di far fronte all'emergenza della carenza di conducenti, che potrebbe verificarsi venerdì, riorganizzando il servizio per ridurre al minimo possibili disagi. Allora, dunque, come avete sentito dal servizio, questa mattina c'è stato un incontro a Pesaro con il prefetto e era presente anche la presidente di Adribus, Lara Ottaviani. Ottaviani che è collegata con noi. Buonasera, presidente. Allora, che cosa avete deciso? Ci saranno, secondo lei, delle criticità a partire da venerdì? Conferma i 30 più o meno autisti che non si presenteranno al lavoro? Prego. Dalla serata di ieri fino ad oggi abbiamo effettuato una rilevazione più puntuale dei numeri all'interno dei nostri autisti. In questo caso parliamo proprio degli operatori del servizio, quindi gli autisti che sono sulle strade. Purtroppo siamo al dato aumentato, cioè stimiamo che tra i 40 e i 45 autisti potrebbero da venerdì 15 scegliere di non esibire il Green Pass e quindi non svolgere il servizio di trasporto pubblico. Ovviamente per noi questa è una grossa criticità perché è un numero molto rilevante di operatori che mette in difficoltà tutto lo svolgimento del sistema che è in piedi ed è delicatissimo perché il trasporto pubblico nella nostra provincia è organizzato in modo molto capillare, quindi difficile poter far fronte a una mancanza di così tanti autisti appunto da venerdì. Ecco senta Presidente, volevo chiedere come gestirete dunque queste criticità? Perché poi al lato pratico chi ci ascolta da casa deve capire se venerdì forse è il caso di organizzarsi con mezzi alternativi oppure no. Allora noi ovviamente siamo al lavoro per riorganizzare tutto questo servizio che le dicevo considerando le unità in meno che avremo a disposizione, il che significa ovviamente cercare di non far mancare il servizio nelle fasce più delicate come quelle del trasporto scolastico o quello del rientro dei lavoratori pendolari, magari eliminando o togliendo linee operatori da quelle che sono le fasce con meno utenza, questa è un po' la linea che potremmo dover seguire. Ovviamente i disagi non mancheranno. Ecco senta Presidente, a me piace sempre ai telespettatori, quindi per voi l'utente finale, cercare di non complicargli la vita più del previsto. Allora mi pare di capire che quel giorno si tratterà soltanto di capire in tempo reale quello che succederà, cioè non c'è una previsione più certa, nel senso che quella mattina uno se deve prendere l'autobus si reca lì sul posto e poi aspetta. Se arriva, arriva, se non arriva. Speriamo di non arrivare a questo punto, nel senso che noi continuiamo con la rilevazione delle nostre mancanze di unità e ovviamente in accordo e in collegamento con la Prefettura vorremmo comunicare questi dati nella maniera più veloce in modo che poi anche le scuole siano in grado di organizzarsi a loro volta come riterranno opportuno e quindi magari comunicare a casa alle famiglie che quali saranno le misure migliori da adottare se cercare di organizzarsi con mezzi propri o in altra maniera, cosa che saranno le scuole a indicare. Avete previsto qualche sito, qualche cosa dove poter vedere in tempo reale l'andamento? Noi abbiamo il nostro sito ufficiale e abbiamo anche le pagine social, sui principali social che danno comunicazione in tempo reale, quindi ovviamente quelle saranno ben utilizzate, però ecco ribadisco ci sarà una comunicazione anche da parte degli altri enti coinvolti dalla Prefettura alle scuole insomma. Il Prefetto, qual è l'aria? Che aria tira? Che cosa vi siete detti? Ci siamo detti che siamo tutti molto preoccupati perché la situazione è una situazione comunque da considerarsi di emergenza all'interno dell'emergenza che stiamo vivendo già da tantissimo tempo. tutti, la parola d'ordine dovrebbe essere che tutti devono collaborare, noi in prima persona e col massimo dello sforzo che possiamo fare, stiamo anche cercando di reperire nel tempo più veloce possibile nuovi autisti, ma anche tutti gli altri enti interessati dovrebbero cercare di darci una mano e venire incontro a questa situazione che sicuramente sconvolge quelli che sono gli equilibri fin da dura instaurati. Bene, intanto grazie alla Presidente di Adribus, Lara Ottaviani, buon lavoro e naturalmente se avrete necessità di comunicare anche attraverso la nostra emittente sapete insomma quali sono i canali. Grazie e arrivederci. Grazie. Allora, intanto nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati riscontrati 54 positive al coronavirus in testa per numero di contagi c'è la provincia di Piesa Urbino con 24 casi, seguita da quella di Ancona dove se ne contano 15. Negli ospedali i ricoveri per Covid sono 56 in totale, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Restano 12 pazienti in terapia intensiva, mentre cala leggermente il numero di degenti in semi intensiva. Un solo tampone invece positivo su 715 effettuati nelle scuole cosiddette sentinella delle Marche. Questo è l'esito del primo report trasmesso dal Servizio Sanità della Regione sui 93 istituti scolastici che fanno parte del piano di monitoraggio nazionale di contrasto al Covid-19 con tamponi molecolari salivari. La campionatura è stata effettuata dal 13 al 26 settembre, un monitoraggio che proseguirà come programmato per garantire la sicurezza negli istituti scolastici e la continuità didattica, così ha detto l'assessore all'istruzione Giorgio Alatini, che ha detto soprattutto scongiurare la didattica a distanza. Ecco perché appunto verranno fatti questi tamponi, continueranno a fare questi tamponi sentinella. Adesso invece vi raccontiamo la storia di un fisioterapista di Fossombrone, si chiama Francesco Paolini e della sua compagna che insieme hanno vissuto però una vera e propria odissea a causa di alcuni tamponi che a loro giudizio sarebbero stati dei falsi positivi. Sentiamo la storia. Aveva deciso di andare in Messico con la compagna perché qui in Italia la situazione iniziava ad essere problematica sia dal punto di vista professionale che sociale. Là invece era molto diverso, non esisteva la quarantena e molte persone, risultate positive al covid, si curavano a casa con l'Ivermectina, utilizzato generalmente come farmaco antiparassitario ad ampio spettro. Nel giro di cinque giorni poi una volta spariti i sintomi tornavano a lavorare e Francesco Paolini di Fossombrone voleva recarsi in quel paese, una scelta che però è stata soltanto l'inizio di una vera odissea. Noi dovevamo partire a gennaio ma la mia morosa è risultata positiva, è risultata positiva a lei e io no. E quindi questa cosa già è una cosa che mi puzzava un po' perché io ho fatto due seriologici e tre tamponi. Quindi la storiella che tu potresti averlo già incontrato il virus con me non funziona perché io sicuramente non l'ho mai avuto. Quindi essendo lei positiva e io negativo qualcosa non va. Quindi è anche giusto dirle le cose quando non vanno. Ero talmente sicuro di questa cosa che le ho fatto fare il serologico dopo le 5 settimane e risultava avere 0,01 per quello che riguarda gli IgG e 0,03 per quello che riguarda gli IgM. Quindi è una cosa piccola, cioè proprio niente. E lì è iniziato comunque l'isolamento con tutto ciò che ne consegue, compresa la quarantena delle persone e dei familiari venuti a contatto con lei. A marzo poi la coppia è riuscita a partire dopo l'esito negativo di un tampone. Per ritornare abbiamo avuto un altro problema, nel senso che dovevamo fare sempre il tampone PCR, perché per tornare in Europa devi ancora fare il PCR, mentre per tutto il continente americano li hanno banditi, perché non hanno una grossa tendibilità. Premetto, prima di andare a fare il tampone noi eravamo in una cittadina sulla costa pacifica e quindi dovevamo andare a città del Messico, fare una traversata, ma c'è stata un alluvione, siamo partiti con l'infredito, eravamo tutti completamente bagnati, un viaggio di 9 ore con l'aria condizionata dell'autobus e sono arrivato a città del Messico completamente bolzo, come si dice. Già mi sentivo che non riuscivo a parlare, il giorno dopo avevo il tampone e mi ha pizzicato e quindi sono stato, sono risultato positivo. È stato un mal di gola dovuto a una causa che c'è stato, ho preso un sacco d'acqua, un freddo incredibile, sono arrivato che non riuscivo neanche a parlare, il giorno dopo ho fatto il tampone, ti mettono questo cotton fioc nella gola e mi è risultato positivo. Ma poi ha fatto anche ad esempio un serologico per vedere se effettivamente... Non ho fatto nulla perché poi dopo sono tornato paradossalmente ho dovuto fare la quarantena in Italia perché là non la devi fare che sei tra virgolette positivo, ma positivo tra virgolette perché se non hanno ancora isolato il virus, se tu hai un mal di gola, un influenza, un raffreddore, ti risulta sempre coronavirus, anche se lì ti dice che tu sei positivo al covid. Quindi... Lei conosce anche altre persone che hanno avuto questo stesso problema? Sì, conosco persone direttamente come i miei fratelli e i quali hanno anche loro rilevato che questi test non sono attendibili. È morta nei giorni scorsi all'età di 58 anni per ischemia intestinale. Lorena Roscini, storica addetta all'accoglienza e alla segreteria del Museo archeologico e pinacoteca del Palazzo Malatastiano di Fano. Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa è stato anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha ricordato il suo lavoro, svolto sempre con passione e dedizione. Stare con la gente, come diceva lei, le dava serenità e la rendeva felice. I funerali sono stati già celebrati nella chiesa di San Nicolò di Dabari a Poggio San Marcello in provincia di Ancona. E torniamo a parlare invece adesso delle elezioni comunali perché dopo la conferma sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi ha annunciato i nuovi componenti della giunta. A una settimana esatta dalla proclamazione, Emanuele Feduzzi, ospita il programma di Fano TV, primo cittadino, ha ufficializzato la composizione del nuovo esecutivo e guidato ieri la prima riunione di giunta. Le deleghe sono state annunciate solo dopo aver incontrato nei giorni scorsi tutti i componenti della lista Fermignano Futura. Sono quattro gli assessori di cui due uomini e due donne. Alessandro Betonica, di nuovo vice sindaco, si occuperà di lavori pubblici, ambiente e sanità. Fiorella Paolini invece è stata confermata nel suo ruolo di assessore allo sport, al personale e servizi al cittadino. Gli altri poi sono New Entry. A Monica Scaramucci vanno le deleghe ai servizi sociali, eventi e pari opportunità, mentre a Obaldo e Ragnuni sono stati affidati la cultura, il turismo, il furlo e le partecipate. Mentre invece per quanto riguarda il Presidente del Consiglio è una novità, praticamente che Giada Giochini era la più piccola della precedente legislatura ed era Presidente della Commissione Bilancio e quest'anno invece l'abbiamo promossa, visto che ha avuto un notevole successo nell'ultima tornata elettorale ed è diventata Presidente del Consiglio. A Giada inoltre sono state affidate le deleghe al bilancio e ai tributi, mentre il sindaco terra per sé quelle all'urbanistica, alle attività produttive, alla pulizia locale e all'edilizia scolastica. Un'amministrazione caratterizzata anche dalla giovanità? Assolutamente sì, il più grande della maggioranza è il capogruppo che ha 50 anni e invece praticamente per quanto riguarda la Giunta addirittura siamo notevolmente con un'età bassa perché io ho 39 anni, sono sindaco, sono sì il più giovane e gli altri ci aggiriamo, siamo tutti i miei coetanei. Quindi di conseguenza abbiamo fatto sia una Giunta che una maggioranza molto giovane, all'interno del Consiglio abbiamo una ragazza di 21 anni, quindi di conseguenza abbiamo dato un imprinting innovativo, rinnovato, abbiamo avuto l'uscita della persona più esperta che era Arturo Romani, il quale ringrazio per il contributo che ha dato sia adesso che nella precedente legislatura e appunto c'è stato un forte rinnovamento, un abbassamento di realtà. Ora quali saranno le priorità? Innanzitutto la nuova scuola primaria, nei giorni scorsi già sono stati recintati il cantiere, iniziano adesso la prossima settimana le vere e proprie escavazioni delle fondamenta e sarà l'obiettivo principale, perché comunque sia una scuola nuova, tecnologica, per 500 bambini. Poi ci sarà la riqualificazione di via Carducci, con l'abbattimento del plesso della scuola elementare attualmente in piedi e la riqualificazione dell'ex campo sportivo. Saranno le tre priorità, insieme a una parte del sociale, che è appunto l'obiettivo che ci siamo dati, che è quello di arrivare entro i cinque anni alla creazione della nuova casa di riposo. Adesso ci sono passato per cinque anni, ormai sei anni fa, avevo terminato il mio impegno come capogruppo della minoranza e tenderò la mano, perché dobbiamo essere collaborativi, dobbiamo lavorare tutti i tredici consiglieri, compreso il sindaco, ovviamente per migliorare Ferminiano. Il mio slogan, il mio gruppo si chiama Ferminiano Futura e dovremo disegnare una Ferminiano Futura anche in collaborazione con la minoranza, perché il ruolo della minoranza è un ruolo serio che deve essere fatto con correttezza, deve essere fatto poi con capacità e soprattutto con collaborazione, perché non bisogna sempre dividersi e diventare opposizione, che è un sinonimo importante ma non una differenza sostanziale, ma bisogna collaborare per la città. E adesso invece è una rettifica, Matteo Giuliani non lascia il Movimento 5 Stelle, come abbiamo detto ieri nei titoli d'apertura del telegiornale, ma ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale per esprimere il suo radicale dissenso rispetto all'abnorme estensione dell'uso del Green Pass, al cui possesso l'Italia, uniche in Europa, subordina l'esercizio del diritto al lavoro, allo studio e alla ricerca e perfino quello del mandato di rappresentanza in ogni assemblea elettiva della Repubblica. Giuliani conferma la propria fiducia, estima il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Fano e augura buon lavoro a Giovanni Fontana che gli subentrerà. Domenica 10 invece la comunità di Sant'Orso, quindi domenica scorsa, si è riunita per accogliere il nuovo parroco, ovvero Don Giuseppe Marini, proveniente dalla vicina realtà di San Lazzaro. Non è facile cambiare parrocchia, ha detto il Vescovo Trasarti a Don Giuseppe, non è facile affidarsi ad un nuovo parroco, ma questo è segno di una fedeltà a Dio. Sii complice con il tuo popolo e costruttore di relazioni che coinvolgono il più possibile tutta la comunità. Per i tanti fedeli intervenuti è stata l'occasione per salutare e ringraziare i due ex parroci, Don Matteo Pucci che ora sta prestando servizio a Calcinelli di Colli da Metauro e Don Giorgio Giovanelli che domenica 31 farà il suo ingresso nella parrocchia del Duomo, nel centro storico di Fano, alle ore 17.30. Il Tg finisce qui, grazie per essere stati con noi, tra poco la pubblicità, le previsioni del tempo, domani mattina invece ci ritroveremo come sempre alle 7, in diretta per il commento alla stampa. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS